Musica Allora, praticamente ci troviamo nella periferia di Boscoreale, siamo a Via Passanti Scafati nel Parco dei Cento Alloggi, che sono delle case popolari non gestite dal comune di Boscoreale ma bensì da una società che si chiama Acer di Napoli. Il problema attualmente, anzi uno dei più gravi attualmente, è la mancanza di pulizia e praticamente siamo pieni di zecche, questo fenomeno che si è dimostrato da un paio di mesi a questa parte. Come potete ben vedere intorno a voi, praticamente siamo sommersi dalle erbacce e dalla spazzatura e questa cosa ha provocato l'arrivo di queste zecche e quindi sono più di due mesi che noi che viviamo in questo posto non possiamo più usufruire di questi spazi. Siccome ci sono persone qua dentro, non è che siamo in una giungla, ci sono bambini, ci sta chi come me ha anche degli animali, insomma quindi vogliamo che questa cosa venga risolta al più presto anche perché il caldo avanza e quindi abbiamo chiesto sia al direttore di questa società sia anche all'amministrazione comunale di poterci dare una mano su questa storia. Ovviamente l'abbiamo chiesto nel breve tempo se è possibile perché sappiamo che le zecche comunque provocano delle conseguenze all'essere umano e quindi stiamo aspettando ancora delle risposte anche se in realtà siamo anche un po' stanchi di aspettare queste risposte perché come ci dicevo prima sono passati due mesi già. Una su un tovagliolo e come potete vedere sono esattamente zecche pericolosissime ovviamente a causa di queste noi siamo segregati in casa, non possiamo uscire perché camminano anche sull'asfalto basta fare due passi e fermarsi giusto anche solo un secondo che te le ritrovi addosso. Allora il sindaco di Bosco Reale è stato contattato sia lui che il vice sindaco e sono stati avvisati anche alcuni consiglieri di questa situazione e da quello che so con certezza ovviamente è che alcuni consiglieri e il vice sindaco lunedì sono andati a Napoli a parlare proprio con il direttore dell'ACER. Il direttore dell'ACER pare che si sia reso disponibile ad aiutarci nel breve tempo possibile dovrebbe anche venire lui di persona qua a fare un sopralluogo perché poi ovviamente il problema a questo punto non è solo quello che vedete ma c'è comunque una serie di problemi da discuterne quindi noi speriamo che il direttore arrivi al più presto. Facciamo un giro panoramico della situazione tutte queste aree come se potete vedere dovevano essere aree di verde dove uno si può sedere, fare cose, insomma c'è tranquillamente e invece insomma non possiamo fare nulla perché tipo là la panchina non c'è più è sommersa sia dall'erbaccia che dalla sporcizia qua in mezzo se entriamo dentro qua ci troviamo le zecche, la spazzatura e quant'altro e questo non è il disagio di un giorno o di una settimana questo è il disagio di un anno quasi perché è da un anno che non vengono a fare le pulizie e quant'altro questo invece è un campetto dove i ragazzini vengono a giocare ma ovviamente da quando c'è questa emergenza zecca non gioca più nessuno esatto, non possono e comunque è sempre tenuto in condizioni estreme anche se più di una volta diciamo tanti ragazzi hanno provato a metterlo a posto a tenerlo in ordine eccetera eccetera sulla destra noi troviamo la scuola materna dove ovviamente ci vanno i bambini dai 3 anni fino ai 6 anni sulla sinistra abbiamo le scuole elementari e le scuole medie ovviamente per facilitare il passaggio da casa propria verso le scuole onde evitare di fare la strada fuori dove le macchine corrono ad una velocità allucinante allora uno preferisce venire di qua ma ovviamente dobbiamo passare davanti a tutto questo degrado adesso le scuole sono chiuse ma fino a un mese fa i bambini andavano a scuola e quindi erano costretti a passare di qua e a prendersi le zecche la struttura qua da progetto praticamente come vedi questo è un campo da basket poi è stato cambiato in campetto da calcetto in realtà queste strutture erano inizialmente le docce e gli spogliatoi per fare sport qua dentro solo che appunto come ci dicevo prima queste case da quando sono state costruite a quando poi sono state consegnate ai cittadini sono passati più di dieci anni quindi questo posto ha subito un forte vandalismo anche quando siamo arrivati qua a prendere possesso delle nostre case fondamentalmente non abbiamo trovato più nulla quindi è stato sventrato per anni e c'è sto posto e causa anche, ma lo devo dire, una cattiva amministrazione dell'epoca tempi lunghi di consegna, chiavi, insomma c'è tutta una procedura storica c'è dietro a sto parco praticamente grazie 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 Grazie.